Contrava dava sigarette fra l'Italia e l'Europa dell'Est, una banda composta da otto fra italiani, moldavi e rumeni, seguita per mesi mediante appostamenti e pedinamenti e attività tecniche in collaborazione con il GICO di Firenze. La Guardia di Finanza di Padova, a sua volta supportata dai comandi provinciali di Trieste e di Firenze, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo, ha individuato nella bassa padovana montagnana una base logistica per lo stoccaggio di materiali per confezionare oltre 12 milioni di pacchetti di sigarette, una quantità che si è immessa sul mercato, avrebbe fruttato più di 36 milioni di euro, senza contare l'evasione delle imposte per circa 45 milioni. Una svolta nelle indagini è avvenuta lo scorso ferragosto, quando in poche ore sei auto articolati, carichi di merce usciti da un deposito, furono fermati nelle province di Venezia, Padova e Gorizia. Gli autisti risultarono in possesso di diversi telefoni cellulari, denaro contante e 70 targhe rumene risultate falsificate. Fu quindi individuato il capannone di un'azienda operante nel settore delle materie plastiche, dove erano stati visti arrivare oltre 600 bancali di semi lavorati per sigarette. La finanza ha sequestrato tutti i materiali, filtri, bobine di carta e pellicoli di alluminio, con pacchetti pretagliati di marche prestigiose destinati al mercato inglese. Le otto persone indagate sono state denunciate per concorso in contrabbando di tabacchi lavorati esteri, introduzione nel territorio dello Stato di marchi contraffatti e ricettazione. Grazie a tutti.